E ora, signore e signori, benvenuti alla scuola Luigi Capurlotto, direttamente lo chiederò gli ammestri e anche a voi la classe quinta dell'anno scuola secondo me del 20-2021. Quando l'orario di scuola, la scuola Capurlotto, prima c'è l'inizio, dopo la primaria che sono otto, com'entra l'orello e la Roberta si vivono insieme al suo Simona, i primi tre anni dirò che sono belli e voglio andare a scuola. Facciamo tutte le materie, quando scrivo è come stare in ferie, studio di tutto e non mi sacco mai, a stare a casa ti annoierai. La maestra Laura, gioiosa, allegra, in quarta c'è Stefania, è buona e sincera, è maestra scuola che burlotto! Scuola che burlotto! I am forever! Ecco, abbiamo un palco stupendo e una palestra spaziosa, a mettere nel tempo che non ci deve far tenere bene. Adesso andiamo a mangiare e dopo andremo a giocare, le coppie cucinano bene, oggi si mangia di più. Facciamo musica inglese, usiamo il computer quattro volte al mese, Silvia e Angela, tutti gli inglesi e con Monica musica c'è. Ci sono le sole, se stiamo male, ci fanno un test speciale, in prima c'è Claudia, in seconda è Silvia, Monica in terza e poi c'è Caterina. La coordinatrice Jessica è lei, la segreteria con Barbara è ok, e per la ginnastica Fabrizio ti farà divertire, si sa. Grazie a tutti! Grazie a tutti!